Nemmeno la presentazione del Museo dell'Oro con il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni è bastata per avere il Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli in presenza. Anche oggi, come ormai accade da mesi in Consiglio Comunale, si è collegato da remoto durante la conferenza stampa di presentazione dell'apertura del Museo ospitata dalla Camu presso il Palazzo della Fraternita di Arezzo. Sindaco da remoto a parte, il Museo vedrà finalmente la luce e sarà aperto al pubblico venerdì 1 luglio. Un progetto che sfrutterà il tesoro acquisito dalla Regione Toscana, la collezione Oro d'Autore, pagato quasi 2 milioni di euro da Arezzo Fiere e Congressi nel 2019 e che unisce la tradizione orafa aretina all'originalità dell'arte contemporanea con lo scopo di dare nuova linfa a un settore imprenditoriale icona della città di Arezzo. Certo è che i 2 milioni che la Regione ha messo, 1 milione e 8 per l'acquisto della collezione Oro d'Autore, e i 200 mila euro messi ora per l'installazione sono stati importanti. Io di questo mi sento orgoglioso anche perché oggi vedere questa bella strutturazione, il Museo dell'Oro, quando penso, ero Presidente del Consiglio regionale, a tutte le polemiche, le interrogazioni che mi sollevavano in Consiglio regionale su questa presunta esagerazione di spesa nell'acquisto. Ecco, sorrido riguardando indietro e quelle persone le vorrei portare tutte qui a vedere la bellezza e l'importanza dell'iniziativa che oggi si inaugura. Gran parte della collezione è presente per fortuna e per il lavoro, non solo ovviamente delle imprese che si sono prestate a realizzare queste opere di grandissima creatività degli artisti, dei design, degli stilisti, ma perché ovviamente poi la Camera di Commercio negli anni ha finanziato l'realizzazione di queste opere. Quindi quelle che vedremo qui sono frutto di un impegno anche economico importante, molto importante della Camera. La Camera ha contribuito anche agli allestimenti precedenti, quindi è da sempre a fianco nella valorizzazione di quello che è la tradizione imprenditoriale, oltre che di grande creatività e di grande respiro di questo territorio. Per il momento le aperture saranno nei fine settimana. Saranno dal venerdì alla domenica, per il momento il fine settimana, dalle 11 alle 19. Naturalmente contattando la Fondazione, noi siamo disponibili anche per comitive che vogliano visitarlo.